ben ritrovati i nostri amici e le nostre amiche fotografe che si dilettano con i loro scatti digitali a reimpostare a correggere ea migliorare le proprie foto con lightroom quest'oggi dopo aver introdotto il signor modulo di sviluppo che peraltro è veramente un gran signor modulo andiamo a guardare un po meglio quello che è la scheda base che è quella che innanzitutto ci consente di lavorare su uno dei fattori più importanti quando vogliamo ribilanciare le nostre foto ossia il bilanciamento del bianco bilanciamento del bianco che è un tema noi stessi se lo diciamo in maniera continua è ricorrente nell'ambito sia della fotografia che del video diciamo che per coloro che si avventurano in lightroom e non hanno masticato precedentemente nulla o poco rispetto all'argomento sia in photoshop per quanto riguarda la correzione colore ma anche nella stessa fotografia bisogna dire che il bianco è un concetto che dal punto di vista fotografico ci consente di interpretare la luce secondo una scala di misurazione che è basata sui gradi kelvin infatti nel modulo di sviluppo nella scheda base di di lightroom troviamo questa prima parte che ci dice che abbiamo a disposizione uno strano contagocce che adesso andiamo a capire meglio e poi questa voce bb che non sta per brigitte bardot bensì come bilanciamento del bianco qui abbiamo di default come scattato perché abbiamo appena importato le nostre foto e vediamo che selezionando quello che sta immediatamente sotto abbiamo qualche cosa di molto simile a quelle che sono le impostazioni in realtà del bilanciamento del bianco il cosiddetto vb che trovate sulla vostra macchina fotografica digitale per cui abbiamo un bilanciamento del bianco automatico uno corrispondente alla cosiddetta daylight o luce diurna uno ha una luce diffusa quando ci troviamo con un cielo nuvoloso quindi una condizione peraltro abbastanza piacevole dal punto di vista fotografico la condizione in cui siamo particolarmente in ombra con illuminazione a tungsteno per intenderci le vecchie lampadine a filamento la fluorescenza ossia illuminazione basata su neon e dintorni bianco luce corrispondente allo scatto fatto col flash oppure un bilanciamento del bianco assolutamente personale che è quello che andremo a gestirci dopodiché abbiamo uno slider che corrisponde alla temperatura di colore della luce ecco per quelli che hanno già preso visione del mio corso di fotografia notturna parliamo in maniera piuttosto abbondante del concetto di temperatura di colore perché ci fu questo lord inglese che è appunto il signor Kelvin che si occupò di misurare la qualità della luce in termini colorimetrici per cui più andiamo verso le ore notturne più la luce tendenzialmente si fa fredda dal tardo pomeriggio in su dopo il tramonto tendenzialmente la luce diventerà fredda per cui noterete che le foto scattate anche di notte hanno una tendenza a tirarvi fuori per esempio i cieli blu anche se è notte mentre quando andiamo dalle prime ore del mattino fino a quasi la tarda mattinata la luce è sicuramente più calda e quindi andiamo verso le tonalità del giallo quindi lo stesso accade per la cosiddetta luce a cavallo ossia quando scattiamo le nostre foto a cavallo per l'appunto tra il tardo pomeriggio il tramonto e l'inizio della serata bene luce calda significa più tendente al giallo quindi si alza la temperatura di colore della luce luce fredda vuol dire tendente al blu e quindi si abbassa la temperatura di colore stiamo parlando ancora una volta di gradi Kelvin ma qual è il valore giusto per cui noi possiamo bilanciare e ottenere un'immagine neutra? beh sicuramente possiamo affidarci alla nostra creatività e al nostro intuito visivo per cui possiamo regolare l'immagine in maniera del tutto arbitraria semplicemente spostandoci con i nostri slider e dando anche eventualmente un controbilanciamento con la tinta che è questo valore che vediamo qui sotto valore che possiamo anche azzerare per cui se noi inseriamo facciamo un doppio clic all'interno della casellina possiamo inserire il valore numerico che ci interessa oppure possiamo andare a cercare qual è in questa immagine un colore neutro che quindi riporti il valore del cosetto bianco alle impostazioni giuste per farlo non dobbiamo far altro che prelevare il nostro strumentino contagocce e andiamo a cercarci un punto che presumibilmente data la tipologia d'immagine sarà intorno a quest'area dove possiamo ritrovare un colore neutro ma come facciamo a capire qual è il colore neutro? che cos'è un colore neutro? tendenzialmente un colore neutro è un colore in cui i valori di rosso, verde e blu sono praticamente uguali ecco vedete che dal momento che mi posiziono con questo curioso contagocce sotto compare questa griglia a quadretti che cambia continuamente colore un po' come se fosse una rappresentazione in pixel dell'immagine dove io mi ci posiziono con il contagocce griglia che posso modificare come dimensioni per cui qua sotto una volta che è selezionato il contagocce mi viene data la possibilità di ingrandirla o di ridurla ecco questo dipende esclusivamente dalla vostra comodità proprio sotto alla griglia compaiono dei valori a secondo della nostra posizione vedete R 79,3 G 78,1 B 75,7% questi per l'appunto corrispondono ai valori di rosso R verde G ossia green e blu la B per l'appunto dal momento che riusciamo a trovare in questo caso è una cosa piuttosto arbitraria nel senso che io sto andando veramente a tentoni a trovare un punto dell'immagine in cui come questo per esempio in cui il valore sia pressoché bilanciato tra i tre parametri c'è rosso, verde e blu ecco che possiamo cliccare sull'immagine e ottenere un bilanciamento del bianco ecco questo sarebbe pressoché quasi perfetto che ci consente di avere come dire l'immagine in maniera neutra in una versione neutra rispetto a eventuali dominanti non volute di colore perché vogliamo magari rappresentare con una certa fedeltà il nostro scatto ma di altri scatti da ribilanciare dal punto di vista del colore ora che io l'abbia fatto in maniera corretta o meno è assolutamente discutibile tant'è vero che è pensabile che io possa poi intervenire comunque manualmente all'interno utilizzando il mio slider della temperatura un'alternativa per fare un corretto bilanciamento del colore sarebbe quello di fare uno scatto precedente nelle stesse identiche condizioni di luce usando una color chart che è un cartoncino che contiene diversi colori e che ci consente di piccare con lo strumento contagocce e di avere il valore esatto perché questi cartoncini, queste chart per l'appunto sono già bilanciate dal punto di vista cromatico in maniera assolutamente scientifica ed esatta bene ma supponiamo che il mio bilanciamento del bianco mi vada bene così com'è e che decida di utilizzare questo bilanciamento del bianco anche nelle altre immagini nella fattispecie questa e quest'altra che cosa devo fare? devo ripetere la stessa operazione visto che l'ho scattata alle medesime condizioni di luminosità eccetera eccetera devo ripetere l'operazione di andarmi a prendere il pirulino il contagocce e andarmi a trovare il punto di neutro in ognuna delle foto no, posso semplicemente selezionare la prima tenere premuto il tasto shift della tastiera e cliccare sull'ultima per selezionarle tutte e tre dopodiché vedete che alla base del pannellino del modulo sviluppo trovo un pulsante che si chiama sincronizza ci clicco sopra voi potreste trovare una videata impostata in questa maniera con tutto selezionato io l'ho deselezionata di default in modo tale che possa sincronizzare esclusivamente quindi selezionare esclusivamente il bilanciamento del bianco fatto questo clicco su sincronizza e tutte le altre tre immagini saranno bilanciate con lo stesso valore di bianco tant'è vero che vedete che la temperatura di colore è 4342 gradi kelvin in questa foto altrettanto in quest'altra e idem con patate in quest'altra ancora quindi il bilanciamento del bianco può essere fatto in maniera molto molto precisa e soprattutto sincronizzandolo con tutte le altre foto che appartengono evidentemente alla stessa sessione di scatti che abbiamo effettuato e con questo max come al solito vi augura pensieri positivi e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao